Cari lettori di Xtreme Hardware, questo è il video di presentazione del nuovo cabinet Silverstone GD10. È un cabinet che presenta una configurazione HTPC, quindi in sostanza è su base orizzontale, altezza relativamente contenuta e profondità interessante, perché non è un cabinet molto profondo, a differenza di altri. A livello estetico si presenta come una unità abbastanza monolitica, con inserti in plastica, ma anche alluminio nella parte frontale, è da notare che frontalmente non ci sono ingressi in e-out, perché sono coperti da un pannello apribile con un meccanismo di chiusura a rotazione. Un'apparatia che maschera un ingresso da 525 pollici per DVD, due connessioni USB 3 audio in mic, power e reset button. Può essere chiusa tramite la chiave fornita in bundle. Quindi esteticamente è davvero interessante, ben realizzato, telaio rigido, la presentazione quindi è davvero ottima. Il modello si chiama SST-GD10B Black e le paratie sono da 0.8 mm. La compatibilità per quanto riguarda le motherboard è SSI CEB ATX e micro ATX. Per quanto riguarda la dissipazione possiamo notare che nella parte destra è presente un filtro per due ventole da 120 mm con due ventole da 120 mm inserite nella parte inferiore. Come potete vedere l'inserimento è molto facile, addirittura la chiusura con una sola mano è possibile. Stesso discorso dall'altra parte, dove troviamo due predisposizioni per ventola da 120 mm, una delle quali però è specifica per l'alimentatore, quindi non sarà possibile installarla o configurarla diversamente. Nella parte posteriore invece troviamo due predisposizioni da 80 mm. È da notare il fatto che questa accoppiata permette l'installazione di un dissipatore proprietario di Silverstone. Troverete i dettagli nella recensione. Ah, ecco, un piccolo particolare, questa è semplicemente una video preview del modello. Ci sarà una recensione scritta dove troverete tutti i dettagli e verranno spiegate le caratteristiche principali. Comunque sia, questo è quanto, sette slot di espansione più uno, più uno che sarebbe quello verticale, e la compatibilità con l'alimentatore è una standard PS2, quindi ATX, 220 mm massimo e raccomandato fino a 180 mm. Noi abbiamo scelto di utilizzare questo modello, un attimo solo, che ci è stato gentilmente fornito da Silverstone e che analizzeremo fra poco. Sì, lo Strider Gold S Series, quindi molto compatto 180 mm, 1500 Watt. Lo testeremo con delle schedine molto interessanti, ma lo vedremo fra poco. Quindi, in sostanza, questa era la compatibilità per l'alimentatore. Dato il format factor HTPC, l'alimentatore e il dissipatore per la CPU non può essere molto alto, quindi 138 mm. Il peso complessivo del cabinet, senza aver installato nulla, è 4.8 kg. Le dimensioni sono 171 mm di altezza, 362 la profondità e 442 la larghezza. Bene, in sostanza, questo è quanto, ma diamo un'occhiata all'interno. Innanzitutto, è possibile aprire il cabinet, rimuovendo semplicemente l'apparatia superiore, che comunque presenta anche una ventilazione in predisposizione delle schede video. Bisogna semplicemente fare uno slide, cioè quindi tirare fuori il pannello, un pannello che non presenta nient'altro, un pannello tra parentesi di ottima fattura. Qui cosa troviamo? Il sistema che abbiamo assemblato presenta una scheda madre con format factor ATX classico, 8 GB di DR3 Corsair Dominator GT e un dissipatore Intel classico, quindi di fattura abbastanza elementare, ma soprattutto abbiamo potuto installare due schede video R9 290 AMD. Un sistema HTPC con due R9 290? Beh, è un signor sistema. L'alimentatore è a 1500 W, in questo caso sproporzionato, consigliamo modelli da 1 kW, 1 kW e 2, sarebbe preferibile. Comunque sia, forse l'unico aspetto leggermente problematico per via dell'altezza può essere il cablaggio in questa posizione, anche se bisogna dire che con questa tipologia di cavi flat Silverstone è veramente un gioco da ragazzi. Il lettore ottico è facilmente assemblabile, da notare il fatto che nella parte inferiore, come vedremo nella recensione scritta, c'è un hard disk da 3.5 pollici. Quindi in sostanza è un cabinet davvero polietrico perché può essere montata una configurazione di base, ad esempio utilizzando, possiamo pensare a schiare grafiche come una GTX 750T con un solo connettore d'alimentazione. Potremmo pensare eventualmente di installare in soluzioni del genere sempre GTX 750T ma con un format Factor Low Profile. In realtà questo è un cabinet che permette di installare sistemi molto potenti, quindi vi consigliamo un utilizzo del genere con configurazioni simili. Teoricamente sarebbe forse anche possibile installare un radiatore? In linea teorica sì, da 240 mm, ma sarebbe necessario rimuovere il filtro e installare le ventole esternamente e proteggerle con due griglie. Questo eventualmente per liquidare le schiare grafiche, anche se in realtà potrebbe essere un problema per via dell'altezza, le tubazioni andrebbero fuori, bisognerebbe fare un lavoro certosino, magari con dei waterblock specifici, ma ovviamente full cover. Ma non consigliamo l'integrazione in questo sistema. È fatto per sistemi ad aria, specialmente con schiare matri che permettano una spaziatura maggiore tra queste due R9290 che diventano un bel fornello, ma che comunque permettono prestazioni davvero da urlo. Questo sistema in sostanza ci sentiamo di promuoverlo decisamente perché permette una grande poliedricità, una grande compatibilità a livello di installazione e un'installazione davvero molto facile. A maggior ragione se poi consideriamo performance termiche interessanti per via dell'adozione di sistemi di dissipazione proprietari Silverstone. Se associato ad elementi di questo marchio sarà veramente eccellente. Vi ringraziamo per l'attenzione, fateci sapere cosa ne pensate, perché comunque qui ci sono delle possibilità da sfruttare davvero interessanti. Grazie a tutti, buona serata.